L'abbate Don Fioravante d'Ascanio racconta che nel 1859 San Gabriele, nel raggiungere il monastero d'Isola del Gran Sasso, si fermò a lungo a Montorio, colpito dalla spiritualità di quella popolazione. Per anni a Montorio si è ricordato questo avvenimento con una festa dedicata al Santo Protettore dei Giovani. Dopo 26 anni di interruzione, durante questo fine settimana tornano i tradizionali festeggiamenti a San Gabriele. Per il quarto anno consecutivo la festa di San Gabriele riesce ad avere continuità e siamo contenti come amministrazione perché al di là dell'aspetto della festa in sé, grazie anche all'aneddoto che abbiamo ritrovato per mezzo dell'arcipredito Don Fioravante d'Ascanio, San Gabriele viene festeggiato non solo perché è il padrono d'Abruzzo, ma perché nel 1859 è passato proprio a Montorio. La festa di San Gabriele a Montorio sarà l'occasione anche per rivivere le tradizioni dello storico quartiere di Via Settembrini, dove il Santo dimorò durante la sua visita al paese. L'iniziativa dall'avvio al cartellone autunnale degli eventi montoriesi. Si parte da venerdì 22 con il passaggio della statua per il quartiere, si andrà poi a sabato con l'inizio della festa con la processione classica lungo la via, messa, poi ci saranno i giochi popolari in mezzo alla strada per i ragazzini, agli etati della presenza di Stellino, ci saranno gruppi popolari, la sera ci sarà uno spettacolo teatrale itinerante della Compagnia dei Folli. La domenica si inizierà poi con il torneo di calcio Badillomano, la sua seconda edizione, nel pomeriggio nuovi giochi per la via, tipo la gara di Ula Hop, la gara di Palleggi, sarà la gara degli Spaghetti. Inoltre nel pomeriggio ci sarà la possibilità di vedere, di provare dei giochi antichi, realizzati a mano dall'associazione San Rustico Vicus di Basciano.